Legalità, rispetto delle regole, dei beni comuni, rispetto degli altri. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro che si è svolto stamattina tra gli studenti della Scuola Media Ignazio Scaturro di Sciacca e il comandante della locale Compagnia della Guardia di Finanza, il capitano Luigi Carluccio. Incontro organizzato dall'Istituto, guidato dal dirigente scolastico Pippo Graffeo, nell'ambito delle attività portate avanti dalla scuola per l'affermazione dei principi della legalità, e finalizzate a far comprendere agli studenti quanto sia importante il rispetto delle regole per una civile convivenza. Si inserisce in tutte quelle attività a volte alla legalità, a implementare nei ragazzi proprio il senso del rispetto delle regole e della legge. Nel caso specifico è il capitano Carlucci, che diciamo giovane, ma anche voglio dire io, ha una capacità proprio di interroguire con i ragazzi in maniera diretta, tanto da avere stimolato davvero tantissime domande. A un certo punto ha dovuto interrompere proprio questo confronto, perché veramente le domande erano davvero interminabili. Quali sono stati i temi affrontati durante questo incontro? I temi affrontati sono stati innanzitutto quali sono i compiti specifici della Guardia di Finanza, in tema di repressione dei vari reati, sia quello degli stupefacenti, sia i reati finanziari, sia anche, voglio dire, del mantenimento dell'ordine pubblico. Però diciamo l'aspetto principale è quello di fidarsi delle forze dell'ordine, di fidarsi della Guardia di Finanza, di sapere che la Guardia di Finanza è composta da tanti padri di famiglia, da tanti giovani che comunque vogliono camminare a fianco dei ragazzi per dare loro sicurezza e aiutarli a vivere anche meglio. Sicuramente ci è stato molto utile per comprendere meglio il loro lavoro, quindi sì, è stata comunque una buona esperienza. Ha parlato del loro lavoro molto bene, ci ha fatto capire... Quanto si è delicato questo lavoro. Appunto, sì, ha spiegato passo passo quello che fanno e come lo fanno. Devo dire che è stato, in generale, tutto molto interessante. Cos'è per voi la legalità? Diciamo che è quella che ci aiuta a convivere tutti insieme, quindi è la parte più importante di una società.